Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, manca veramente poco. Domani, lunedì 18 febbraio, si parte. Vado in Brasile, raggiungo l'ISA che è partita domenica scorsa, perché il Carnevale è sempre più vicino, si incomincia il primo di marzo e finisce il nove, ovvero il nove, cioè la sfilata dei campioni. Dall'anno scorso che ho pubblicato i primi video sul Carnevale ci sono state alcune persone che mi hanno contattato per chiedermi ma com'è possibile partecipare al Carnevale, sia come spettatori ma come faccio anche io, oppure quanto mi piacerebbe venire in Brasile, tutto quanto molto bello. Bene, vi voglio dare una specie di opportunità, nel senso volete un pezzettino del Carnevale di Brasile, posso darvi un souvenir del Carnevale. O meglio, potete acquistare un souvenir del Carnevale, potete acquistare una maglietta come questa, non è proprio questa, ma una maglietta come questa che è della scuola con la quale io e l'ISA sfiliamo unitos da Tijuca. Il costo della maglietta è di 24,90 euro, con consegne a mano a Roma, Napoli, Avellino e Firenze. Per le altre consegne, nel senso, per le spedizioni, il costo è di 10 euro aggiuntivi. Mi potete contattare all'indirizzo e mail che trovate in descrizione, d'accordo, e chiedendomi maglietta, taglia, poi ci si può mettere d'accordo per quello che è il pagamento che può essere con un trasferimento Paypal, che può essere con una ricadica post-pay, che può essere con un bonifico. Quindi, tutte quante le possibilità che ci sono. Potete portarvi un pezzo del Brasile a casa, del Carnevale. Le scuole ogni anno producono una maglietta differente per l'edizione del Carnevale. In più, producono delle magliette per autofinanziarsi per le varie attività che fanno durante l'anno, finalizzate sempre alla sfilata del Carnevale. Quindi, se volete portarvi un pezzo di Carnevale di Unitos da Tijuca, contattatemi. 24,90€ la maglietta. E in più, se non siete residenti a Napoli, Roma, Firenze e Avellino, 10€ di spese di spedizione. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Vi invito a iscrivervi al canale, attivare le notifiche, mettere un bel mi piace, condividere il video. Noi ci vediamo in un prossimo video, che tanto potrebbe essere un video su altri consigli per il Brasile, per quando andate in vacanza in Brasile, oppure potrebbe essere anche, direttamente dall'aeroporto, o dall'aereo, o dal Brasile. Non lo so. La giornata è ancora lunga. D'accordo? Io vi ringrazio e... Buona domenica!